La proiezione se Arnautovic e Turam ripetessero la stagione 2023 garantirebbero altri 4 gol. E 3 meno assist rispetto alla coppia di Lukaku Dzeko la scorsa stagione da uno l'altra. Entro un'estate, il finalista della Champions League e il titolare della Coppa Italiano e la Supercoppa Italiana. Si ritrova con una nuova assemblea offensiva che Simone Inzaghi dovrà petrolio bene. Per rendere una squadra più concreta che ha fatto troppo rispetto nelle occasioni create. Un tema che è costato anche alla grande Coppa delle Orecchie.iet. Nell'ultimo campionato, L Nerazzurri è stato il secondo più prolifico 71 gol. Dietro i 77 realizzati dai campioni dell'Italia di Napoli Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa hanno segnato un totale 43 gol e 18 assist la certezza. Da cui ricominciare quest'anno. È ovviamente Toro, il campione del mondo e secondo nella classifica dei Gunners l'anno scorso dietro Osiman. Quest'anno, i due centrali in avanti sono stati sostituiti altro 9. Marco Arnautovic. Che è tornato da un remoto passato apparizione nel tripleta di Mourinhoan One Recent 10 gol 6 assist. Nell'ultima stagione a Bologna da Markus Turam. Multipospetto striker 13 gol 6 assist. Nell'ultimo Bundesliga il Borussia Mohenchen Gladbach. Messi insieme a Lautaro Correa. Totale 47 gol e 15 assist. Un bilancio simile ai primi quattro. Con altri quattro centri tre passi decisivi in meno. Sono solo proiezioni. Ma, a partire dal debutto in A contro la Monza sabato. Dovranno diventare palle in fondo alla porta. Perché, come ha detto il maestro Vujaden Boscov, per vincere le partite devi segnare più gol. Vedi anche Intermarketing. Difesa un innesto. Con ok di Zhang. Può essere Pavard.